Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore VOB. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 7 giorni di riposo in frigo. Ingredienti sono latte intero, tuorli, marsala, alcool per alimenti, zucchero e vanillina. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte e 200 grammi di zucchero e facciamo cuocere per 6 minuti, 90 gradi, velocità a 3. Mettiamolo da parte e lasciamolo intiepidire. Senza lavare il boccale mettiamo i tuorli e gli altri 200 grammi di zucchero e facciamo amalgamare per 3 minuti, 37 gradi, velocità a 3. Aggiungiamo il latte che si è intiepidito. la vanillina, l'alcol, il marsala e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 3. trasferiamolo in una bottiglia. Riporre in frigo per 7 giorni prima di consumarlo e ogni giorno agitare la bottiglia. Liquore Vov si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!